Durante la celebrazione eucaristica di sabato 5 aprile presso la cattedrale di Fano, il Vescovo Armando ha accolto i rinnovati consigli parrocchiali che assieme a quello diocesano si sono radunati per la consegna della nomina ai presidenti parrocchiali oltre che a quello diocesano. Può essere che non ci capiterà mai di vivere un'esperienza come quella di Lazzaro, ha detto il Vescovo commentando il Vangelo della quinta domenica di Quaresima, ma ogni giorno sentiamo Cristo che ci invita a uscire da noi stessi e ad aprirci alla vita. Dio infatti ci tratta ad adulti non togliendo la morte dalla nostra prospettiva di vita, ma aiutandoci a superarla. Le tre letture hanno anche permesso di delineare le varie tipologie di risurrezione a cui ciascuno è invitato a prendere parte, la risurrezione morale, spirituale e fisica, mirando il superamento della morte e del peccato in virtù della grazia. Passando poi a tratteggiare il profilo di chi si occupa di uno dei carismi principali dell'azione cattolica, qual è l'educazione? Il Vescovo si è espresso così, il vero educatore riesce a liberare dalle bende le persone attorno a sé, aprendo lo sguardo a orizzonti che vanno oltre i campanili. L'amore alla Chiesa non deve essere motivo di orgoglio, ma un rinnovato invito a un impegno sempre più alto.